Ciao a tutti e benvenuti su Game Time. Questo sarà un video molto breve ma mi pare giusto, anzi ci pare giusto tenervi informati su Elden Ring dato che è un titolo veramente molto atteso. La notizia è questa, 5 delle classi giocabili su Elden Ring sono state velatamente annunciate in un tweet dell'account ufficiale di Elden Ring. Avremo la possibilità di provarle durante la closed beta che andrà dal 12 al 14 novembre. Le classi sono queste che vedete a schermo, quindi il guerriero, il cavaliere incantato, il profeta e poi ce ne sono altre due, ovvero il campione e il lupo sanguinario. Non sappiamo se queste saranno la totalità delle classi disponibili al lancio oppure se ce ne saranno altre. Fatta eccezione per il guerriero, le altre classi sono, almeno nel nome, nuove rispetto ai vecchi titoli From Software. A noi personalmente stuzzicano molto la curiosità, specialmente il profeta e anche il lupo sanguinario per questo nome così particolare. A voi invece quale classe ispira di più? Fatecelo sapere ovviamente nei commenti. Grazie e ci vediamo alla prossima.